Il treno è arrivato a Taranto, il bar però non c'è, questa è una situazione nota che si protrae da diversi anni e allora c'è un consigliere regionale, Enzo Di Gregorio, che consegna almeno delle bottigliette d'acqua per chi parte, per chi arriva, una provocazione che serve a smuovere le acque, ma a livello governativo, regionale e comunale davvero non si può fare nulla ed RFI, c'è stato già un confronto, che cosa vi hanno detto? Con RFI abbiamo avuto un contatto con alcuni funzionari già 15 giorni fa, ancora non ho avuto risposte io nel frattempo vado avanti perché penso che sia un atto di civiltà il nostro e soprattutto un dovere per loro credo che questa città in generale meriti molto di più, sappiamo che ci sarà un resailing di questa stazione i cui lavori partiranno nel secondo semestre del 2023, in attesa di questo abbiamo bisogno di dare il minimo del conforto alle persone che partono e arrivano Che ne pensate del fatto che alla stazione di Taranto manca il bar ormai da tanti anni? È un bel disagio, strano, una stazione così importante, non ci sia il bar Vi è mai capitato in altre stazioni d'Italia di non trovare il bar aperto? No, non ci è mai successo No, mai È una cosa allucinante, allucinante perché non è ammessibile una roba del genere La settimana scorsa siamo stati a Napoli, tutta un'altra storia, ti parlo sempre del sud Quindi non capiamo perché qui sia così È una problematica da risolvere Un bigliettino da visita negativo della città